46esima edizione della Miglianico Tour, ormai una tradizione per la nostra regione, quest'anno con una novità, quale? Per la prima volta abbiamo cambiato l'orario di partenza, è sempre stata una gara pomeridiana col caldo di agosto. Abbiamo voluto provare a far in notturna, che hanno un certo fascino e per noi è una novità. Speriamo che venga recepito questo cambiamento e che ci sia una buona partecipazione. Come sempre si partirà invece con la gara dei più piccoli? Sì, quella è un po' la storia, è la parte gioiosa della gara, dove ragazzini dai 0 ai 9 anni si cimenteranno sui 300 metri o i 900 metri, ma più che altro sono i genitori con i nonni, i zii, che spingono a volte le carrozzine, trascinano il ragazzino per le mani per farlo arrivare al traguardo. Non c'è competizione per i ragazzi, solo un premio di partecipazione e un buon gelato che li ristora e li affascina un po'. E la competizione invece ci sarà e come nella gara degli adulti? La gara degli adulti da un po' di anni per esigenze economiche non abbiamo nomi illustri, però ci sono gli amatori. Ecco, gli amatori hanno fatto la storia della Migliani Couture e quindi credo che ci sarà una buona partecipazione, aspettiamo come negli anni passati un migliaio di concorrenti. Io voglio così precisare che questo circuito, la Migliani Couture, è iniziato nel 1971. Dopo 46 anni ha lo stesso numero di curve, lo stesso percorso, non è cambiato di nulla. Quindi chi partecipa ha sempre la possibilità di verificare se è migliorato come tempo, quindi un circuito che non è stato mai cambiato.